Allora, novità? House ha sbagliato È già successo Stava per far mutilare una bambina Io l'ho capito Gliel'ho detto, ma non è cambiato niente Chase, hai risolto il caso Hai salvato una paziente, dovrebbe bastarti Beckett voleva chiamare la sua commedia Aspettando l'approvazione di House Ma ha decise che era tetro Credimi Io non aspetto più Mi serviranno 30 monete d'argento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti